Siracusa, consulta civica, pitturare le precarie ringhiere d'Ortigia rodendo la messa in sicurezza, danno alla pubblica incolumità. Non si comprende quale sia il criterio con cui l'amministrazione comunale abbia deciso di far pitturare le ringhiere ammalorate del lungomare di Levante d'Ortigia e percettore del reddito di cittadinanza, nonostante l'evidente stato di degrado strutturale in cui versano con rischio di cedimenti. Questo è il quesito che si pone il Presidente della Consulta Civica di Siracusa, Damiano De Simone, che ritiene inopportuno e irresponsabile, oltre che pericoloso, impiegare risorse economiche e umane per la pitturazione delle ringhiere in oggetto quando queste andrebbero prima messe in sicurezza e poi curate sotto il profilo estetico. Al momento è solo pericolo e spreco. L'amministrazione comunale, domanda Damiano De Simone, è consapevole del fatto che far apparire agibili agli occhi di chi intende affacciarsi sul mare queste ringhiere può comprometterne ulteriormente lo Stato già precario della struttura con rischio di caduta? L'amministrazione comunale continua, Damiano De Simone, ha preso in considerazione il fatto che far apparire agibile e sicuro una ringhiera perché esteticamente curata, bypassando gli interventi prioritarie di messa in sicurezza, equivale a procurare preterintenzionali e probabili, ma soprattutto gravi incidenti, considerando che chi è intento ad affacciarsi sul mare è indotto a credere di poterlo fare in tutta sicurezza? L'amministrazione comunale è consapevole di dar vita a delle vere e proprie trappole e danni della pubblica incolumità? L'amministrazione comunale intende prendere sul serio questa responsabilità con il rischio di dar vita alle conseguenze descritte? L'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza, conclude De Simone, andrebbe fatto utilizzando del buonsenso, coinvolgendo tutti coloro i quali posseguono competenze ed esperienze nel settore edilizio per la messa in sicurezza delle ringhiere prima e poi, solo dopo aver provveduto agli interventi importanti, concludere con la pitturazione. Si opere con buonsenso e responsabilità.